Lorenzo Fontana della Lega e Ignazio Larussa, Fratelli d'Italia, sono rispettivamente i nuovi presidenti di Camera e Senato. Stefano Foggetti, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, oltre ad esprimere soddisfazione per l'incarico a Ignazio Larussa, parla della spaccatura nel voto di giovedì. Riguardo a come è andata la votazione per Ignazio, penso che la migliore risposta sia stata oggi questa alla Camera per l'elezione di Fontana, in cui il centro-destra è tornato subito compatto. Io non mi faccio troppe preoccupazioni, nel senso che all'interno di una maggioranza le fibrillazioni ci saranno sempre, ci sono all'interno degli stessi partiti, figuriamoci tre partiti differenti. L'importante però è tenere la barra dritta, sapere qual è il nostro programma, sapere quali sono le nostre idee comuni che abbiamo concordato. Vittore Soldo, segretario provinciale del PD, fa una riflessione più generale. Certo è che il primo messaggio dato al Paese e anche all'Europa è che questa maggioranza ha un'impronta decisamente di destra, non più di centro-destra, perché le parti moderate sono ovviamente lasciate ai margini, se non addirittura escluse. Ma si sofferma anche sul voto delle minoranze. Non credo sia stato un bello spettacolo da vedere che una parte, seppur piccola di minoranza, ha votato a favore del Presidente del Senato, questo potrebbe avere diversi significati, ma io credo che si vedranno, come dire, si riuscirà a interpretare, a capire qualcosa in più con il proseguire dei lavori parlamentari e l'elezione dei vicepresidenti. Di tutt'altro parere il commissario provinciale della Lega, Fabio Grassani. Lorenzo Fontana sarà un ottimo Presidente e riuscirà anche a unire il Parlamento, nonostante queste esternazioni da parte di alcuni membri dell'opposizione che potranno tranquillamente essere evitate, dato anche il momento. È stato un bel esercizio di democrazia anche l'elezione di ieri del Presidente del Senato, a noi non interessano alcune polemiche che sono emerse, sicuramente l'inizio della legislatura fa ben sperare per quello che sarà il proseguo nei prossimi anni. Un vivo e autentico saluto